Ciao a tutti, bentornati su The Games Brew, io sono Roy Lovat e oggi vi porto un titolo molto particolare, molto bello, molto complesso, che però a mia vista non sta ricevendo l'attenzione che merita. E come vedete il gioco di cui vi parlo è Old World di Mock Games, praticamente per chi non avesse mai visto Old World è praticamente una via di mezzo tra Civilization e Hearts of Iron o giochi simili, anche se propende più verso Civilization che non il secondo genere. Quindi, stessa idea di base, infatti se non era addirittura uno degli sviluppatori di Civilization, se no il creatore di Civilization è dietro Old World, adesso mi sfugge il nome, però mi pare che appunto uno dei creatori storici di Civilization è proprio dietro lo sviluppo di Old World. Praticamente, dicevo, l'idea è la stessa, varie nazioni, vari leader, una mappa da esplorare, risorse da raccogliere, guerra, ma anche, come vedrete, la gestione del regno attraverso il controllo delle figure chiave che lo rappresentano, quindi non solo la nostra famiglia, ma anche le altre famiglie importanti, come vedrete, perché il nostro regno sarà suddiviso, visto che questo gioco si concentra solo sull'era antica, sono queste grandi famiglie che avevano il potere, quindi dovremmo giostrarci non solo per bilanciare i nostri rapporti con le famiglie, ma anche con i singoli individui, quindi avremo bisogno di aumentare la nostra influenza verso le varie persone della nostra corte, verso i nostri figli, il consorte, eccetera. Quindi, diciamo, c'è un gradino in più rispetto alla gestione interna dell'impero di quanto si possa vedere, per esempio, in un Civilization. Graficamente il gioco è bellissimo, non ha, diciamo, per carità io lo adoro, io adoro Civilization, però diciamo che graficamente non ha quell'aspetto un pochino, per così dire, cartunesco, no? Degli ambienti in cui ci si muove in Civilization, invece punta un po' più su Ieri Reale. L'altra cosa che invece è, tra le altre cose, perché c'è veramente tanto, è un gioco molto profondo, molto complesso, uno degli aspetti più importanti del gioco sono gli eventi. Quindi, come vedrete, ci sono mille, milla cose che potranno accadere in questo gioco e che porteranno ad avere praticamente conclusioni differenti, ad avere conseguenze differenti a seconda di come li affronteremo, ma non solo eventi che riguarderanno il mondo in generale o la nostra persona, ma anche eventi legati alle persone chiave del nostro impero, le persone chiave. Quindi c'è veramente una quantità di cose con cui avremo a che fare, che è veramente impressionante. E perché ho deciso di portarvelo proprio oggi? Perché oggi esce il secondo DLC, chiamato Il Sacro e Il Profano, che, oltre ad aggiungere altri oltre 350 eventi in più, diciamo, allarga quello che è l'aspetto religioso. Quindi ci sarà, per esempio, adesso ci saranno i membri del Clero con le loro missioni. Ah, tra l'altro, molti di questi eventi sono episodici. Quindi ce ne saranno alcuni che saranno eventi chiusi, quindi una volta scelta la risposta finiranno lì. Altri, invece, come vedrete, diranno, ok, la tua scelta potrebbe o porterà a uno sviluppo di questo evento. Per esempio, ci sono quelli che scappano, gli innamorati che facciamo, li inseguiamo, no, eccetera. E quindi, a seconda delle nostre scelte, poi tutta la storia avrà delle diramazioni differenti. Quindi, dicevo, Il Sacro e Il Profano amplia quello che era percepito come un aspetto non ancora esplorato profondamente, che è proprio l'aspetto della religiosità all'interno del nostro regno. Come vi dicevo, a questo DLC trovate in descrizione il link alla pagina Steam per vedere veramente in dettaglio tutto ciò che aggiunge. Ma, appunto, come vi dicevo, tra le altre cose, altri tantissimi eventi, ma anche nuovi personaggi legati più o meno ad aspetti religiosi. Per esempio, c'è Mani, c'è San Paolo, c'è Saffo e molti altri. E, come ho detto, questo è il secondo DLC perché il primo, invece, era Gli Eroi dell'Egeo che non solo ci permetteva di giocare e di vestire i panni appunto degli eroi della mitologia greca e non solo, ma ci dava anche una serie di scenari per rivivere i momenti più famosi tipo Salamina o le Termopili e cose del genere. Quindi oggi vi faccio vedere questo titolo nella speranza che vi piaccia e che decidiate di provarlo. E, ovviamente, visto che abbiamo già altre serie in ballo, farò un one-shot, anche perché questo gioco è molto lungo, è molto lento, perché c'è tanto da fare. Non è... Sì, è vero che c'è la possibilità di cambiare alcuni aspetti del gioco, ma comunque sia, diciamo che non si può arrasciare. Va preso con calma, anche perché va studiato, o quasi praticamente ogni minimo dettaglio. È un po' che non ci gioco, quindi sicuramente qualcosa me lo perderò un po' per strada. Devo dire che il gioco fa un ottimo lavoro in ricordarvi tutto quello che dovete fare e c'è uno spettacolare sistema di menu che spiegano veramente tutto quanto. Quanta differenza lì, per esempio, quanto avveniva... Non mi ricordo se era The Valiant... No, The Valiant. Knights of Honor, dove, diciamo, era spiegato il 99%, ma poi c'era sempre quell'1% che rimaneva così, vago. Qui veramente viene spiegato tutto. Detto questo, chiuderei qui questa lunghissima introduzione a che ci voleva per coloro che non avessero mai provato questo gioco, direi di lanciarci in una nuova campagna. Ah, il problema più grosso di questo gioco è che, secondo me, in questo caso è veramente uno scoglio, è che tutto è in inglese. Perché dico che è uno scoglio? Perché se in altri giochi ho sempre detto sì, vabbè, non perdete niente della storia o la storia si intuisce, qui assolutamente no, scordatelo, qui c'è bisogno di una conoscenza medio-alta dell'inglese perché ci sono un milione di eventi che se non capite bene quello che dovete fare, cioè, ciao, potreste fare la scelta sbagliata e vedere andare alla malora tutto quello che avete fatto. Purtroppo, non so se lo tradurranno mai, non so se esista, ma non credo, tuttavia non sono sicuro, non credo che esista una traduzione non ufficiale del gioco. È un peccato perché il gioco è molto bello, ma, ripeto, il fatto che non sia in italiano è un ostacolo non da niente. Allora, e qui iniziamo. Ovviamente, come vedete, non ci sono tante civiltà come in Civilization, anche perché, almeno per adesso, è ristretto il gioco, è concentrato sul mondo antico. Allora, abbiamo Assiria, Babilonia, Cartagine, Egitto, Grecia, Hatti. Non so se siano gli Ittiti in realtà. Sì, gli Ittiti, ok. Persia, Roma e poi Random. Allora, io qui sono un po' combattuto. Ovviamente ogni eroe, ogni impero ha le sue caratteristiche, la sua descrizione. Come vedete, hanno le ricerche di partenza che cambiano a seconda dell'impero, anche le unità uniche, delle strutture uniche, e le famiglie, come dicevo, che andranno a far parte del nostro impero. è l'archetipo di leader. Perché un altro aspetto molto importante di questo gioco sono gli archetipi, ovvero i nomi, un po' come gli epiteti fissi che ci verranno dati, tipo il Pelide Achille, no? Perché? Perché questi epiteti praticamente sono appunto delle descrizioni del nostro carattere che si possono sbloccare in modi differenti. Per esempio, se io distruggo tutte le città nemiche, sarò Nabucodonosor il distruttore. Che fa il distruttore? Più 10% all'assedio, più 20% d'attacco contro i nemici, eccetera, eccetera. Ce ne sono di positivi come di negativi. Alcuni li possiamo controllare, altri no. Controllare poi sempre senso lato. Per esempio, se il Principe Consorte non fa altro che ammalarsi, prenderà il nome di Pinco Pallino il malaticcio. 10% in più di possibilità di cadere vittima di malattie mortali e cose del genere. Allora, la scelta è un po' difficile perché sono tutte molto interessanti. L'artstyle è molto bello. Diciamo che la realizzazione dei leader non fa capire quanto poi è bello in verità l'artstyle. Sono belli ma non così belli come disegni che vedremo in game. Ci sono questi disegni tipo di quando scopriamo delle rovine eccetera degli eventi che sono stupendi. Allora, io quasi quasi andrei con i greci. Allora, questi c'hanno i carretti ma questi c'hanno gli assiri visto che sì, effettivamente sono stati i primi usare le macchine d'assedio dovevano avere anche qualcosa del commercio perché loro erano potentissimi nel commercio. Questo pure non mi dispiacerebbe Babilonia. Arciere cimmero Arciere di Accad Anche i cartaginesi con gli elefantozzi che è figo gli egiziani i greci non lo so eh messi pure con la cavalleria i romani con gli astati i legionari stranissimi i legionari vorrei fare gli assiri ma le macchine da serio non è che proprio mi intrigino potremmo fare i cartaginesi perché iniziamo già con il tempio visto che il nuovo DLC Sacro Profano amplia questo aspetto facciamo loro iniziamo con trapping praticamente sblocchiamo già i frombolieri che possono essere trasformati in arcieri e poi sblocchiamo il campo per prendere diciamo per catturare appunto le bestie poi il tempio porta d'aristocrazia sblocca i templi e aristocrazia sblocca l'ambasciatore ottimo vedete c'è tantissimo da leggere perché qui per esempio ah tra l'altro se io spingo il tasto centrale del mouse c'è anche una combinazione di tasti adesso me la ricordo questo menu si blocca e io posso andare a vedere qui che cosa faccia ambasciatore saggezza eccetera e posso fare posso bloccare qualsiasi altro menu come vedete praticamente saggezza carisma coraggio vanno a influire tutti quanti su degli aspetti del gioco quindi ve lo dovete leggere tutto c'è un ottimo tutorial devo dire il tutorial è fatto benissimo si blocca un po' nel menu la scelta del tutorial non so perché ma tipo di due secondi c'è questo ritardo ma vi spiega veramente quasi tutti gli aspetti meno male si andiamo con loro va così vediamo anche gli elefanti elefante africano elefante con la torretta tempio di Melkart Astarte Eshmun Tanit ok leader diplomatico più 40 d'opinione verso le nostre le altre famiglie ottimo così non ci accoltellano le spalle più 60 verso i leader delle altre popolazioni cioè ok avanti qui potete scegliere tutto quello che volete allora visto che in realtà non abbiamo nulla che potenzi la nostra marina pur essendo cartaginesi io cambierei il tipo di dove qua il tipo di mappa metterei continente no no ciambella direi no foresta stiamo foresta anche qui ci sono dei mari andiamo a vedere questo e qui iniziamo sei didone la regina fondatrice di cartagine scappi in fuga dal regno tirannico di tuo fratello pigmalione di tiro hai attraversato i mari per fondare una nuova città il crudele assassino di tuo marito e la minaccia di tiro minaccia la tua eredità ma non è tutto perduto la tua abilità di diplomatico e le abilità persuasive hanno fatto sì che molti ti seguissero alla ricerca di una nuova casa le civiltà che già esistono non conoscono ancora il potere di cartagine ma lo faranno ben presto inizia a fondare una città selezionando i tuoi coloni ok e come vedete la prima grande differenza con civilization qua non possiamo insediarci ovunque ma solo su queste tile che sono le tile villaggio vedete intanto guardate che bello il gioco è veramente una gioia per gli occhi e per le orecchie perché anche le musiche sono bellissime tra l'altro devo dire che hanno fatto un ottimo lavoro di ottimizzazione perché quando provavo la versione io questo lo provai anni fa appena usci o meglio appena uscì la versione beta e surriscaldava tantissimo il computer invece adesso nessun problema allora quindi prima grande differenza è questa non possiamo insediarci ovunque ci piaccia tra l'altro guardate il fiume che bello allora qui abbiamo già dei cervi e dei porcazzi ma anche del pescino e questo che cos'è della lavanda vedete la lavanda la possiamo le risorse possono essere anche raccolte e ci forniranno dei bonus in questo caso ci dà cultura e qui come vedete c'è una quantità di roba da leggere impressionante non starò a leggere tutto perché altrimenti facciamo un'ora solo per i menu allora qui che ci abbiamo marmo ottimo perché la pietra vi servirà tantissimo allora miei cari dove vogliamo insediarci qui direi di no perché qui è qui o qui o qui se vado lì questo che c'ha non ci dice beh forse perché mi devono insediare prima non mi dice quanto cibo 10 cibo 10 10 10 e questo niente non so se sia meglio qui 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 qua vai si che c'è il fiume allora lasciamo qua vai e scelto il punto adesso dobbiamo scegliere a chi dare il controllo di questa città e qui ci sono vedete le varie famiglie a nostro seguito ognuna con le sue caratteristiche ognuna con i suoi bonus per esempio se questa si insedia vicino alle risorse tot allora avrà tot bonus eccetera vuole questo e poi gli possiamo mandare delle risorse di luso cioè c'è tantissimo ovviamente dovremmo bilanciare a chi dare le città per far tutti i contenti per esempio qui chi ci abbiamo i barcidi questa è più diciamo una famiglia militaristica infatti se vedete le città date in controllo a questa famiglia forniscono tra le altre cose più due di capacità militare all'anno la capacità militare è praticamente non proprio la capacità le abilità serve per questo valore qui che vedete questo scudo rosso in alto e praticamente permette di potenziare le unità e poi tra l'altro fondando una città avremo dei bonus immediati per esempio se io fondassi la città con loro otterrei immediatamente uno scout possono costruire unità che richiedono orsi cammelli o elefanti con questo otteniamo con i magonidi otteniamo cultura le miniere e il taglialegna producono un 20% in più tuttavia i miglioramenti urbani tardano due anni più del normale però otteniamo un lavoratore con lui con gli annonidi otteniamo tra le altre cose un mercante di corte le fiere e con i didonidi 400 punti civics che servono tra le altre cose per velocizzare la costruzione allora visto che qui c'è la pietra io direi di iniziare con i magonidi e qui esplorando possiamo trovare delle nuove dei punti di interesse naturali e possiamo non solo rinominarli a nostro piacere ma lo scoprire per primi queste meraviglie ci darà punti legittimità che servono come vedete a tantissime cose tra le quali per esempio ad ottenere nuove ambizioni cioè si ottiene legittimità portando a termine le ambizioni o ad avere nuovi epiteti o nuovi cognomi eccetera eccetera quindi anche in questo caso vi dovete leggere quello che fanno perché fanno un milione di cose differenti tanto i nomi che la legittimità lasciamo così qui dice come muoversi come ci si muove non ci si muove a random non ci si muove le unità non hanno tutti lo stesso numero di movimento ma ci si muove con questi che vedete qua gli ordini io posso muovere per esempio quell'unità che avete visto là sotto per 7 fino a che non consumo gli ordini posso muovere tutte le unità fino a che non consumo gli ordini e poi devo finire adesso dobbiamo fare una ricerca qui ci sono le ricerche base ma potremmo anche trovare vedete che vengono rappresentate come carte per diciamo rappresentare questa casualità delle scoperte adesso abbiamo tutte ricerche che effettivamente servono a portare qualcosa a volte potremmo avere delle carte che appaiono solo una volta che potrebbero darci un'unità gratis un bonus dei materiali in più in quel caso converebbe scegliere quelle perché come vi dicevo quelle non torneranno più queste invece una volta che abbiamo scartate tutte torneranno ad essere inserite nel mazzo l'abbiamo i guerrieri e questa non è male in realtà perché abbiamo la pietra la pietra ci servirà tantissima il tagliapietre ci dà il forte se no abbiamo il granaio allora io direi iniziamo con questo se ok esploriamo i governatori ok si qui in basso a sinistra vedete che ci sono tutti gli avvisi e a destra tutti i nostri familiari vedete quello che vi dicevo se io adesso qui intanto c'è già una cosa esplorare io mi posso muovere fino a qua 5 6 7 poi dopo di che non mi fa più muovere allora andiamo qui andiamo a vedere che cosa becchiamo terra maledetta ottimo il nostro scout ci avvisa che questo pezzo di terra è praticamente colpito da una pestilenza inoltre poca vegetazione vi cresce e non ci sono animali c'è un odore molto strano e si sentono dei mugugli molto inquietanti che vogliamo fare dice al centro del di questa terra maledetta c'è un un pozzo profondissimo che sembra essere l'origine della puzza e dei delle lamentele che sentiamo affacciandoci sull'orlo possiamo vedere che ci sono una serie di fuochi riempi il pozzo con delle pietre otteniamo quattro punti di legittimità che vedete sono accumulati qui tra l'altro aumentano anche l'opinione che le famigliano di noi o dovremmo studiare questo pozzo otterremo uno scienziato di corte ma la città prenderebbe 120 punti di insoddisfazione quindi mi dispiace per quelli che stanno là sotto lo riempiamo tra l'altro è vero che perdiamo un po' di pietre ma prendiamo quattro punti di legittimità quindi facciamo questa qui c'è un altro buonissimo punto dove andare a sfondare una città gli esploratori quando si trovano nei boschi non possono essere avvistati dai nemici vedete io non posso più muovere in realtà potrei a costo di 100 punti di 100 punti esperienza militare ma diventerebbe tipo affaticata l'unità quindi lascerei per qui abbiamo già dei frombolieri unità a distanza e come vi dicevo vedete qui possiamo aggiungergli un generale che gli darà tutti i bonus relativi a quel personaggio per esempio se io dovessi cliccare qui chi gli vogliamo dare come generale c'è bomilcare il compassionevole da 3% alla difesa 6% al critico e 10% in più 10 punti esperienza in più per anno o se no di donne per adesso non metterei nessuno quello che posso fare invece è promuoverlo qui questi si alternano in modo casuale per esempio posso aumentare la guardia o questo qui ignora occhio di falco ignora i modificatori dovuti alla distanza e conduce a marksman ok facciamo questo vi consigliano sempre di muovere prima l'unità e poi potenziarla perché una volta potenziato ho aggiunto un generale non si potrà più muovere ma visto che tanto noi questi adesso non li mandiamo da nessuna parte possiamo fare così abbiamo fortunatamente due lavoratori qui abbiamo bisogno delle reti ma non credo che il nostro laboratorio abbia le reti il nostro lavoratore o forse si si ce l'abbiamo quindi ci da più due di crescita per anno più dieci di cibo ok vedete che noi tra l'altro siamo in rosso a cibo e come produzione di pietra possiamo anche comprare e qui vi dice cosa fare per comprare dieci unità a volta cento unità a volta ma per adesso vi direi quello che non abbiamo è il taglialegna tu costruisci questo possiamo tagliare gli alberi tanto poi ricrescono non è un problema qui che c'è bisogno land consolidation questo non l'ho mai trovato il campo non ce l'avevamo trappero trappero ok stone cutting ancora non ce l'abbiamo capisco capisco perché questo produca pietra e non cibo molto strano dice qua vedete non possiamo perché ci vogliono tra le altre cose due punti ordine e noi non ce l'abbiamo quindi facciamo se schifta ok grazie ok ok abbiamo fatto proviamo un po' che serve qui dobbiamo adottare delle leggi ecco le leggi sono praticamente appunto leggi scelte che andranno a caratterizzare l'essenza del nostro governo hanno dei bonus e dei malus non ce n'è una migliore dell'altra diciamo vengono tutte con aspetti positivi negativi e che andranno a sbloccare alcuni aspetti e a bloccarne altri per esempio adesso abbiamo centralizzazione o vassallaggio centralizzazione tutte le città possono costruire le fattorie sulla palude la città inoltre otterrà due di scienza per anno e per livello di cultura inoltre opinione più 20 perché otteniamo legalismo vassallaggio le unità si consumano consumano meno 50% di vita e diciamo di anche in termini di movimento nel territorio esterno infatti dice non si stancheranno non ci sarà stanchezza estra quando escono dai nostri confini riders più 20 facciamo questo non l'ho mai provato le altre si sbloccano a seconda della ricerca che avremo per esempio colonie e surfdom servitù per essere attivate richiedono la navigazione possiamo fare altro lo abbiamo già fatto questo ah yes ho fatto no yet e qui vedete qui ci sono i nostri consiglieri dovremo mettere un marito qui ci siamo ci siamo noi potremo anche influenzare sposare le persone possiamo influenzarle con noi possiamo influenzare gli altri membri della nostra città con per esempio gli ambasciatori eccetera si può fare un sacco di cose tra l'altro qui abbiamo sbloccato un altro punto città next allora qui ci dice che possiamo essere messi come generali ah tra l'altro dobbiamo mettere qualcuno qua in città come governatore e possiamo mettere didone si grazie stiamo producendo va via un altro esploratore stiamo producendo praticamente guarda qui altri coloni allora i tuoi scout si avvicinano lentamente con circospezione a delle rovine durante l'avvicinarsi della notte mentre si avvicinano la luce della luna riflette su qualcosa di metallico e si sentono delle grida ma non sembrano grida di battaglia mentre si avvicinano le rovine le truppe nascoste vedono un gruppo di donne che si sta esibendo in una danza circolare sotto le stelle ed ognuna di esse porta una lancia e uno scudo che fanno piroettare con facilità il ritmo aumenta così come le loro mosse fino a che la musica finisce quando la tua gente fa per allontanarsi vengono fermati dal capo delle danzatrici ovvero Izbal ti ringrazio per non aver interrotto il rito questa è la tomba di una delle antiche amazzoni sacre ad artemide allora che facciamo offriamo a Izbal l'opportunità di combattere come una regina guerriera tra l'altro è ottimo perché guerriera tattico più due di saggezza più due di questo che era disciplina bello come generale permette di contrattaccare e più 10% di attacca e difesa contro unità dalla distanza ottimo oppure possiamo creare un tempio per le amazzoni a cartaggine che ci dà culti locali più uno e aggiunge il culto delle amazzoni più due movimenti per anno e più 10% di produzione militare questo non è male consuma otto monete all'anno però però ci dà più movimenti che ottimo facciamo questo o questo qua usa i racconti della mazzoni per ispirare i tuoi eserci però credo che questo sia solo momentaneo questo potenziamento facciamo il tempio dell'amazzoni va si continua a esplorare guarda qui che cos'è i limoni cedro come veniva citrus eccolo qua il tempietto che abbiamo appena costruito prossima unità questa più pochi movimenti perché l'altro si è già mosso vedete qui c'è gemme abbiamo scoperto la il fiume di gala ok possiamo appunto cliccare qui se abbiamo abbastanza punti ordine possiamo raccogliere le gemme che in questo caso ci danno più sé di cultura a cartaggine ok e qui c'è anche dell'oro qui sarebbe ottimo mettere la città abbiamo trovato dei barbari attenzione questi ci attaccheranno questo abbiamo visto prima ok grazie ok grazie non ci interessa far soffrire la nostra unità non ha tu perché non puoi ah perché non abbiamo i comandi tu non puoi fare più niente tra l'altro dovremmo a un certo punto sposarci perché altrimenti non faremo eredi ma l'unico uomo a corte a parte nostro fratello è l'oligarca bomilcare tra l'altro non possiamo ci abbiamo i comandi quindi niente ecco infatti adesso dice ti devi sposare con qualcuno scegli tra questi due non siamo obbligati allora lui non è male in realtà non è assolutamente male più uno di ricerca più uno di civic più 36 di monete ottimo e 40 opinioni con i magoni e lui va a dire di no sposiamoci con lui perché è importante avere un erede ok grazie ok grazie ci siamo sposati e poi vedete se io clicco su di lui posso aumentare la mia influenza su di lui usando per esempio la stessa didone o un ambasciatore eccetera eccetera un ambasciatore non ci abbiamo nessuno vero? gridi non va benissimo però è skimmer possiamo fare peccato vieni di qua che c'è uh guarda qua bello qui ottimo bello ci piace guarda qua prossima città la mettiamo qui la nostra area di influenza si può aumentare usando delle carte che possono andare fuori con la ricerca o costruendo per esempio le meraviglie adesso tu prendi un po' d'oro ok allontanati da qua perché altrimenti i barbari che sono anche lì ti ammazzarellano non possiamo fare niente possiamo promuovere questi ancora aumentiamo il critico va allora possiamo fare qui ecco la mina a fare questo e next allora vedete qui è successo un evento casuale il nostro nostro marito odia gli dèi ha preso il dominio di impio ecco quell'uno di carisma che avevamo l'abbiamo perso fico fico adesso ce l'abbiamo questa si campo vai no qui andare sulle montagne ovviamente non solo può dare un bonus ai combattimenti ma anche alla vista va è un altro punto di interesse vediamo che evento sblocchiamo allora troviamo delle rovine di una fiorente civiltà agricola le terrazze i terrazzamenti attraversati da dei piccoli canali suggeriscono che la civiltà dovrà in qualche modo controllare le inondazioni durante le stagioni della pioggia potremmo utilizzarlo per noi vedi se è rimasto qualcosa prendiamo più esperienza noi e 90 di cibo o studia vedi questo è fighissimo questo non l'ho mai visto studiando i campi ci mette una fonte di sorghum dentro il nostro territorio che dà 1 di cibo all'anno e se ci mettiamo la fattoria sopra più 2 di crescita più 5 di cibo e sblocca quella lì crop resource che non so cosa è ogni landowner produce 20 di monete vai studia tra l'altro ogni cosa che noi costruiamo un campo una miniera eccetera ha il potenziale per creare degli specialisti che potenziano la produzione in maniera differente perché potrebbe per esempio in una miniera potenziare l'estrazione mineraria o creare una nuova produzione per esempio le gemme quindi è sempre bene controllare nella nostra città basta andare qui e qui vedete per esempio abbiamo messo le reti qua adesso abbiamo la possibilità di costruire un pescatore che costa qualcosa ma i benefici sono tantissimi tra l'altro poi ci sono dei progetti questi non costruiscono niente ma ci danno dei bonus perché quante volte siamo dovuti rimanere per esempio in civilization con niente che fare con le mani in mano è vero che nell'ultimo c'era la possibilità tipo di produci più ore eccetera qui invece vedete possiamo fare che ne so aumentare la produzione di cibi o diminuire il malcontento qua sotto vedete il malcontento per esempio potremmo mettere un festival eccetera ci sono parecchie cosucce da fare voi dormite e finiamo l'anno una cosa molto importante è cercare di velocizzare le ricerche allora abbiamo incontrato roma quindi dobbiamo andare a prendere questa città prima che la prenda roma perché mi piace parecchiuccio purtroppo non abbiamo nessun ambasciatore ancora però vabbè allora abbiamo creato i coloni che devono andare qua giù vedete non ci possiamo arrivare adesso e possiamo creare qualcos'altro potremmo creare degli altri coloni che non mi pare una cosa proprio una cattiva idea o creare questo facciamo questo perché ci dà più ricerca infatti abbiamo già due lavoratori per cui ok scegli attentamente dove creare la tua seconda città qui raccogliamo qualcosina e finiamo l'anno allora qui 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 non sarebbe male perché prendiamo anche quei granchi nel caso trovassimo la carta per ampliare i confini arriveremo anche alle conchiglie quindi dire va si vai qua vai e facciamo costruire questa città e questo non è male per esempio ma anche questo qua bullion che diavolo è bullion questo no eyes la tinta è importantissima questa è la cosa il la porpora no la porpora o si è la porpora cosa si chiama quell'insetto o questi quell'insetto si è la porpora che si fa con il mollusco che si secca e poi fa quella cosa rossa allora con loro già l'abbiamo fatta la città scout non ci serve certo questo non è male perché dice le città le loro città saranno sempre connesse con la capitale però con questo otteniamo il tesoro di livello 1 che non è male facciamo questo ok guardate qua guardate qua quanta roba ottimo iniziamo a fare un lavoratore a volte lì nelle carte delle ricerche potremmo sbloccare anche lavoratori gratis per esempio che ottima come cosa si si so milizia di chi romana c'è oh barbari via baobab olive sembravano dei baobab ecco la roma abbiamo trovato il fiume arnus ok continuo a non avere nessuno fammi vedere diplomatico ok eh ma ci serve ecco perché non posso prossimo anno mettiamo un ambasciatore così iniziamo a stringere i rapporti con Roma e dovremmo anche costruire il tempio allora vedete 200 di pietra lodeon possiamo creare le caserme o crescita eh crescita ai confini sempre io preferisco fare sempre crescita ai confini perché prendiamo più roba allora no settiamo abbiamo avuto un figlio tra l'altro il principe Bodashtart e abbiamo lei come ambasciadrice più 45 d'opinione con gli stranieri 10 verso le tribù e meno 5 delle religioni non so perché gli ambasciatori danno sempre negativo verso la religione boh facciamo lei grazie e adesso la possiamo andare in missione vedete possiamo far influenzare qualcuno da lei o chiedere un tributo a Roma o cercare di stringere un accordo con Roma per fare del del commercio proviamo proviamo noi possiamo provare a influenzare il nostro marito per esempio per avere dei bonus e adesso gli dire facciamo qui assolutamente corri perché eramo in negativo la cava qui va bene no non mi dire che questi ma no però questi non so coloni no non venire a crearmi la città proprio appiccicata adesso maledetto io adesso te la costruisco qui ok i specialisti per aumentare la nostra produzione già l'abbiamo fatta ecco nostro figlio viva la celebriamo e adesso abbiamo la nostra prima ambizione che cosa vogliamo le ambizioni bisogna fare attenzione perché ce ne sono alcune a tempo e altre no e una volta portata a termine se riusciamo a portarla a termine avremo dei bonus ma se non riusciremo a portarla a termine ne risentiremo quindi fate attenzione controlla quattro città uccidi cinque nemici visto che per adesso non abbiamo le forze per uccidere tutti quei barbari direi facciamo quattro città e qua a destra vede già ne abbiamo costruite due potremo anche mandare tipo loro qua giù dopo qui sono tutte le cose che sono successe e finiamo l'anno ok qui dice che è possibile cambiare anche controllando la nostra famiglia è possibile scegliere come far proseguire cioè chi far diventare erede se noi andiamo qua in famiglia vedete qui c'è l'albero genealogica e vi dice diventa il nostro erede al trono è il nostro primogenito solo gli uomini solo le donne eccetera eccetera preso a caso potete scegliere qualsiasi cosa lo potete scegliere anche all'inizio del gioco nelle opzioni ma potete cambiarlo anche qui allora sì qui ho 8 di cibo non mi dispiacerebbe qui non so perché continui a dirci pietra vabbè dice che serve husbandry ok posso tagliare gli alberi ma tanto me li tagliano automatico quando io faccio il potenziamento quindi ah ma no ma sai cosa dovrei fare in realtà il tempio per iniziare a produrre religione che si espanda verso i confini allora qui ci sono vari tempi ognuno ha un boost a seconda di quello che ha vicino per esempio qui dov'è vicino a pastures questo che è questo è pastures no farm vedi qui dice puoi costruire ti consiglio di costruire il tempio di tani te facciamo il tempio di tani no non qua sbagliato cancella si qui ok vabbè lì ci so i romani contro i barbari va benissimo che cosa incenso non è male qui si stanno picchiando ok la nostra missione per influenzare la nostra murido ha portato un evento oh ah no è positivo pensavo con la musichetta è tutto didone moglie mia non ho mai pensato che avere trovato l'amore nel nostro matrimonio ma sono contento di averlo fatto ad essere cautious cauto nei nostri confronti anch'io ti amo l'amore allora vedete per esempio noi abbiamo 744 punti civic e questo ci mette tre anni noi possiamo andare qui e usare civic no non possiamo farlo perché ci vuole il developing culture per velocizzarlo che sfaiga quindi niente non possiamo velocizzare la produzione questo c'è una flemma andacciamo così perché tutta quella roba ecco una cosa che mi piacerebbe è avere qui un cosino per chiudere sto menu perché se no rimane lì dove vanno questi maledetti maledetti romani che si espandono a nostre spese mo ce li ritroviamo in faccia che meraviglia che cos'è olive accogli l'olive allora dobbiamo sbrigarci appena finisce questo forse avremmo dovuto fare un'altra cosina meno male che qui l'abbiamo bloccato ma davvero non posso che non mi ricordo l'altra volta di aver usato quello allora vai qui si e adesso fai il tempio di Tanit grazie oh missione commerciale il nostro ambasciatore nome impronunciabile è riuscita a portare a termine la missione con Rome e a stabilire una rotta commerciale come vogliamo beneficiare da questo nuovo contatto commercerò legno per civics no legno per addestramento no perché non abbiamo legno o pietra per ordini fa tutto abbastanza schifo facciamo questa la pietra il resto non lo possiamo fare non abbiamo un legno non abbiamo una produzione di legno per cui eh si hanno costruito la città qua maledizione non c'aveva niente da fare eh quante città hanno già 87000 bravo computer vedo che ti sei dato da fare allora cielo e terra troviamo i resti di un tempio su una delle colline più alte che ci circondano e le terrazze sono decorate con metalli e ceramica le leggende locali dicono che questo sia un punto in cui cielo e terra si incontrino dove tutta la vita ha avuto inizio ovviamente l'unico modo per vedere le meraviglie di questo posto è inalare i fumi delle piante psicotrope allucinogene allucinogene bello che mi è venuto psicotropo però no allucinogeno vabbè che si trovano sui versanti di questa collina che erano utilizzate nell'antica cerimonia un tuo soldato ti porta una ciotola piena di queste erbe tuttavia siano che i soldati abbiamo i riguardi ad utilizzarle la mia mente è aperta più 20 di ordine diventiamo esotici esotica più 2 di carisma più 14 civic più 22% di produzione civic bello oh no grazie più 2 di saggezza eh guarda qua voglia no no questo ciao la ricerca è più importante sorry ma no sorry allora un altro evento durante un festino reale hai un'interessante discussione avvincente discussione con uno dei tuoi cortigiani inferiori il vino scorre senza freni e continua da parlare fino a notte già cornifichiamo nostro marito si è appena però tipico appena ti decidiamo beh io non ti amo più e già ci sta provare con quell'altro gli altri diciamo iniziano a andarsene ma il nostro compagno rimane con noi che facciamo vediamo dove la notte ci porterà porta ad eventi futuri o anche un anche una regina ha bisogno di riposo faccio questa perché se io faccio questa adesso sicuramente finiamo a fare fichi fichi con questo e dopo il nostro marito si incacchia ma il nostro marito proviene da una delle altre famiglie se io tradisco lui e lui perde diciamo se io perdo influenza con lui automaticamente anche la sua famiglia diciamo inizia a guardarmi male quindi andiamo a dormire andiamo a non fare casini grazie allora visto che qui un un oggetto ce l'abbiamo questo qua lo mandiamo qui qui c'è un sacco di roba da costruire produciamo veramente poca pietra abbiamo fondato il paganesimo ed è nata la duchessa Amatbal oh possiamo cercare i guerrieri possiamo fare Hamlet Hamlet ti permette di creare una sorta di soborgo che poi si trasforma in città ma ci dà anche le mura o il tesoro vediamo una cosa leggi retorica no è questo il monachesimo porta al monoteismo o al politeismo per esempio potremmo prendere questo cittadinanza dottrina manor martial code valutin valutin giurisprudenza e se facessimo questo fammi vedere se io adesso scelgo questo vado a retorica che mi porta al forum con cui otterrò più ricerca io voglio questo mi devo fare ironworking no mi serve questo husbandry ok no ironworking vai oh che produciamo qua io direi facciamo il festival perché questi c'è già del malcontento qui questo lo riduce riduce 40 punti di malcontento facciamo questo anzi no facciamo questo ci serve oh abbiamo dato abbiamo dato vita sì a due gemelli ci servono i coloni perché dobbiamo portare avanti questo e perché sennò i romani conquistano tutto husbandry la stiamo cercando andiamo a fare qui le reti grazie possiamo fare anche il faro d'alessandria qui c'è il tempietto perfetto e adesso direi che qui facciamo niente perché c'è ah sì la fattoria vai no allora questo qui miniere andiamo a fare una corre ottimo desti infami eh si sono messi lì ok la gente comincia a convertirsi ah ok adesso possiamo sbrigarci possiamo far sì che la produzione sia velocizzata quello che stavo cercando di fare prima allora anche se cartagine non ha una religione di stato molte delle persone seguono un proprio credo un prete pagano di cartagine dice che il supporto degli dei va che il supporto degli dei farà sì solo che il nostro regno sia più potente e vuole insegnarci le sue conoscenze certo così ci convertiamo al paganesimo che è quello che dobbiamo fare ok vai qua e fai delle altre redi qui che ci serve land consolidation land consolidation ci credete che questa è la terza la che faccio non l'ho mai trovato bello allora settler o soldato o lavoratore decreto potremmo aumentare questo nel concilio se facciamo concilio perché per adesso non c'è niente che veramente mi ispiri tra l'altro lì dice che possiamo fare l'andu delle ecco vedete adesso possiamo fare 410 ok vai così è pronto possiamo cancellare la nostra ultima mossa avrei dovuto prendere quella roba lì però va bene oh siamo diventati didone l'esploratrice dora l'esploradora legittimazione legittimità più 30 ottimo siamo a 49 le alpi apuane ciao alpi apuane allora il nostro ambasciatore non sta facendo niente potremo mandarlo in missione mandiamo a fare pace con Roma a stringere rapporti in realtà poi che puoi fare bomilcare influenza intercessione famiglia con questa che c'è zero potremo intercedere con Birko in modo che ci voglia più bene recap di quello che è successo allora andiamo di qua next andiamo a prendere dei cervi non possiamo siamo troppo lontani da una delle nostre città ok ok vai qui io andrei oddio infatti potrei provare a mettere la città qui in modo che i romani non me la prendano questo territorio non mi fa particolarmente impazzire sono l'olive ma allora la carovana non l'ho mai fatta in realtà mazza questo qua non ha funzionato ha aumentato ancora più il discontento perché facciamo questo no questo ma non so perché scegli anche qui allora ma io qui continuerei a facciamo anche qui un festival va anzi no facciamo sempre questo qui aumentiamo la produzione ok è riuscito nella sua missione allora i negoziati con Roma vanno bene abbiamo stabilito i confini aperti praticamente ma insistono nello standardizzare il sistema burocratico che regola i commerci lo possiamo fare ma porta veramente alla pace con Roma e però dobbiamo pagare 7 civic per 40 anni quindi per 40 turni no infatti non vedo perché allora facciamo uno slinger aspetta quanto manca no aspettiamo rifacciamo questo perché alla prossima facciamo i fante ok quello lo sappiamo se io adesso andassi qua potrei mettere la mia città qui no dopo se faccio aumenta i confini potrei prendere questo si ah non possiamo perché ci so l'oro ah figo vabbè andiamo là no finalmente la produzione di pietre è in positivo andiamo a produrre il ferro a fare questo oh storie e souvenir gli scout incontrano una spedizione di stranieri che sta facendo la nostra stessa rotta si chiamano persiani e vengono distante terra all'orizzonte condividiamo un pasto cordiale e ci raccontiamo storie scambiamo souvenir come vuoi che gli scout termino terminino questo questo incontro uccidi tutti allora mostragli la tua buona volontà dandogli un regalo più 40 di opinione con la persia e perdiamo 180 monete manteniamo lo stato di tregua facciamo niente cioè lasciamo le cose come stanno tregua basta ci diamoli guerra con la persia facciamo sì perché non siamo assolutamente in grado di combattere con nessuno abbiamo trovato il fiume giordano abbiamo 51 di legittimità bello anche qui questo punto dove costruire una città tra l'altro i nostri figli vanno anche educati hanno iniziato la costruzione dei giardini pensili dei giardini pensili lo so che pensili facciamo questo grazie e niente quindi voi andate qui perché altro non potete fare guardate abbiamo questo questo ottimo cosa ci serve no reti ce l'abbiamo ottimo fare delle reti anche qui e adesso possiamo fare il nostro primo guerriero vedete qui che il pescatore ha due cose che può fare in questo caso per esempio la stessa ma quando sbloccheremo questo potremo avere un pescatore che prende i granchi e un altro che prende invece il le conchiglie per fare le tinte continuiamo ad esplorare ciao allora i nostri esploratori trovano una famiglia di lord keepers non so cosa sia credo che sia tipo tipo menestrelli può essere lo vediamo immediatamente ringraziamo la tecnologia no dice immortali no direi che non è questo vabbè qualcuno che sta morendo di fame nelle rovine e sopravvivono veramente con niente ci chiedono aiuto e in cambio ci promettono di condividere con noi la loro abilità oratoria ovvio ce lo possiamo permettere addio si prendiamo retorica che ci dà forum epica esplorazione no diventa esploratrice più una disciplina più 16 di monete facciamo questo una ricerca in più stiamo scherzando ottimo anche questa zona non è male perché qui c'è del materiale ho trovato un'altra cosa 53 ottimo bene e direi che possiamo terminare qui ora se dovesse esserci un enorme interesse per questo gioco io non avrò assolutamente nessun problema a continuarlo però già vi dico lo continueremo probabilmente più in là perché come saprete adesso abbiamo già tantissime serie in ballo e tra l'altro adesso a febbraio c'è pure lo steam next fest quindi direi che per il momento non è il caso di mettere altra carne sul fuoco però come avete visto il gioco è molto bello c'è veramente tantissimo da fare da scoprire da sperimentare e così via ve lo consiglio assolutamente è un gioco che secondo me vale la pena provare se siete amanti degli strategici vi ricordo che oggi esce il nuovo dlc che aumenta ancora di più le cose da fare e introduce nuovi personaggi ma anche diciamo da più spazio e più respiro a tutto quello che è l'aspetto religioso del gioco come sempre nella descrizione troverete il link alla pagina steam del gioco e vi ricordo che nei commenti potete lasciarmi un vostro pensiero su questo titolo le vostre idee le vostre opinioni e che potete mettere like al video e iscrivervi al canale io sono Roy Lovat di Cartagine e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao